Si è tenuto a Roma presso il Centro Studi Americani un importante seminario organizzato dall'Istituto Bruno Leoni relativo al rapporto tra la tutela della salute pubblica e la libertà di scelta degli stili di vita, con particolare riferimento al tabacco e i suoi effetti sulla salute. La riduzione del danno è una maggiore tutela della salute e devono rappresentare una priorità per tutti i governi, ne è convinto il senatore Marco Scurria. Dove non c'è evidenza scientifica parliamo di cose fantasiose, però anche qui l'aspetto fondamentale è capire quali sono le finalità dei provvedimenti e quindi l'evidenza scientifica, il punto di partenza, il punto di arrivo deve essere sempre quello della salute, ma anche della considerazione di chi lavora e chi produce in questo settore. Un appuntamento di grande rilievo scientifico ed istituzionale in vista della prossima conferenza delle parti del Trattato internazionale per il controllo del tabacco, che si svolgerà a Panama il prossimo novembre, che vedrà la partecipazione di 180 paesi, tra cui l'Italia, che traccerà le direttive sulle politiche di controllo del tabacco. I dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità mostrano che la Svezia ha la più bassa incidenza di cancro ai polmoni nell'Unione Europea. Questo grazie alle politiche del governo svedese che hanno raggiunto, senza politiche proibizioniste, ma offrendo una vasta gamma di prodotti alternativi, ha raggiunto il 5% di tasso di fumatori. Quindi evitare politiche proibizioniste, ma adottare politiche basate sul buonsenso piuttosto che mosse da approcci ideologici. Nel mondo ad oggi ci sono posizioni completamente diverse anche su come trattare i prodotti alternativi. Lo ha spiegato la dottoressa Joanne Rossi-Maison, giornalista, medico scientifico e direttore del M.O.R., l'Osservatorio per la Riduzione del Rischio in Medicina. Noi abbiamo due ordini di problemi. Il primo è impedire che i giovani inizino a fumare. Il secondo è aiutare le persone che vogliono smettere. Come M.O.R., come Osservatorio sulla Riduzione del Rischio in Medicina, noi siamo molto attenti allo sviluppo di quelli che sono i prodotti alternativi al tabacco, che è vero che contengono nicotina e che quindi in qualche modo mantengono la dipendenza del fumatore, ma che hanno mostrato ampi profili nella capacità di aiutare le persone a andare via, a smettere con il fumo combusto. Oggi siamo qui per discutere le politiche e confrontarci con quelle che sono le politiche dei vari paesi e in particolare per fare un appello sia alla Svezia che alla Gran Bretagna che con le loro buone pratiche hanno raggiunto degli ottimi risultati in termini di controllo del tabagismo e della cessazione. Ogni anno 7 milioni di persone perdono la vita per malattie correlate al fumo. Il tabagismo è un problema complesso e multifattoriale che per essere risolto necessita di molte competenze. L'incontro ha messo in risalto le buone pratiche di altri paesi a cui ispirare le future politiche europee.